Se sei qui vuol dire che ami l'arte e ti interessa migliorare. Infatti rimani ancora un minuto con me perché ho da raccontarti una novità. Da oggi è possibile fissare una o più consulenze private direttamente con la sottoscritta per poter anche tu imparare a dipingere. Questo lo puoi fare sia se parti da zero o se dipingi da qualche anno. Infatti potremo confrontarci su qualsiasi aspetto della pittura e dell'arte e quindi aiutarti ad andare a livello successivo acquisendo quella confidenza in più che sono sicura che ti farà piacere avere. Senti all'interno del mio canale YouTube potrai vedere tu stesso attraverso i miei video le tecniche che ho utilizzato e osservare tutti i quadri che ho dipinto partendo da zero come nature morte, paesaggi, le marine e le auto. Quindi se sei ancora qua ti starai chiedendo come funziona il tutto. Considera che la consulenza sarà una vera e propria videochiamata che si potrà effettuare tramite computer o smartphone comodamente da casa tua e sarà anche registrata. Lo dico nei tuoi interessi perché potrai riascoltare quante volte vorrai la consulenza. Anche perché in un'ora do tantissime informazioni. Inoltre per prenotare la videochiamata dovrai utilizzare Calendly. Il link lo trovi qui sotto in descrizione a questo video e dovrai rispondere a ben 10 domande. Questo ti fa capire che per me è importante conoscerti ancora prima di vederci per capire al meglio di cosa hai bisogno. In questo modo l'ora che passeremo insieme sarà un'ora netta e non un'ora dove i primi minuti ci servano per capire di cosa hai bisogno. Invece per il saldo si può procedere con Paypal all'email artecapalbo-gmail.com oppure con un bonifico bancario. Il link lo trovi nella descrizione di Calendly. Invece il link di Calendly lo trovi qua sotto in descrizione a questo video. Quindi se ti piace investire in te stessa, in te stesso, qui sei nel posto giusto. Sono felice davvero di poterti aiutare nella tua arte e nella tua pittura. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao! Ciao!